E' stato fermato dai poliziotti delle volanti mentre andava in escandescenza contro i passanti. Nel tardo pomeriggio di martedì un pakistano è stato fermato dai poliziotti perché è andato in escandescenza per motivi ancora non chiari. Sul posto sono arrivati gli agenti e oltre allo straniero si trovava anche una pattuglia della polizia municipale che stava cercando di bloccare l'uomo, in particolare in stato di agitazione e si dimenava animosamente in vendo contro i presenti. I poliziotti arrivati in soccorso dei vigili urbani sono riusciti a bloccare l'ubriaco e a fare il riconoscimento. Era un cittadino pakistano, 26enne, con regolare permesso di soggiorno. Considerate le condizioni del giovane, è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso ed inoltre denunciato per mancata esibizione del permesso di soggiorno.